Buongiorno e bentornati a Quotidiano TV di oggi 22 gennaio, iniziamo subito con le notizie. L'Expo apre e le stalle chiudono a 100 giorni dal via della grande esposizione universale che dovrebbe celebrare il cibo, l'agricoltura e la terra, spiega Ettore Preandini, presidente della Coldiretti Lombardia, rischiamo che sia la festa solo dell'industria, perché in tutta Italia la crisi del prezzo del latte e della carne sta mettendo in ginocchio il settore zootecnico. Drammatico incidente intorno alle 14 di mercoledì 21 gennaio alla stazione ferroviaria di Piacenza. Per motivi ancora da chiarire, una donna di circa 60 anni è stata travolta da un treno regionale diretto a Milano, che stava per effettuare la fermata a Piacenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza, un'automedica e i vigili del fuoco. Le condizioni della vittima sono molto gravi e rischia di perdere un braccio. Uomini delle fiamme gialle al lavoro al Casinò di Campione d'Italia. I militari della Guardia di Finanza di Como e dello Scicco di Roma, il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, sono arrivati nella mattinata di mercoledì 21 gennaio nella casa del gioco per un maxi-serquestro. Il blitz è scattato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Como che riguarderebbe presunte irregolarità sulla gestione del Casinò. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Maria Vittoria Isella e le ipotesi di reato sembrerebbero riciclaggio e associazione a delinquere finalizzata al peculato. Parliamo invece di università. Spariscono i docenti under 30. Università vietate e professori giovani. Su 13.000 ordinari neppure uno ha meno di 35 anni e solo 15, poco più di uno su mille e sotto i 40. Ma è tutto il sistema che sta invecchiando drammaticamente. L'età media si è impegnata fino ai 52 anni e mezzo, mentre i docenti sotto la Trentina sono crollati dal 2008 a oggi del 97%, un delitto. Perché, come ha spiegato tante volte Umberto Veronesi, la guerra si fa con i giovani. E la guerra per la conquista di nuovi spazi della scienza e della ricerca ci potrebbe dare non solo soddisfazioni ma formidabili opportunità economiche. Lo dicono i dati dell'European Resource Council. Nonostante la ricerca impegni da noi solo il 4 per 1000 degli occupanti e nonostante l'Italia sia l'avventottesimo negli investimenti in questo settore, i nostri ragazzi sono stessi al mondo della classifica dei progetti dei ricercatori junior e ottavi per articoli pubblicati sulle maggiori riviste scientifiche. Anche quest'anno Soncino si prepara a festeggiare il Carnevale con maschere, musica e spettacoli. La carmesse è spalmata su tre giorni, il 14, 15 e 17 febbraio, ma l'organizzazione non è stata molto semplice. Come riferiscono gli organizzatori, con notevoli sforzi, il Comitato Carnevale di Soncino è riuscito ad organizzare il Carnevale per l'edizione 2015, un evento che da tanti anni, grazie allo sforzo di pochi, si riesce ancora oggi a proporre a tutti. Polemiche per le vignette raffiguranti Benito Mussolini pubblicate dal sindaco di Vailate, Paolo Paladini, sul proprio profilo Facebook. Chiediamo al sindaco di cancellare dal proprio profilo la vignetta inneggiante alla violenza con l'immagine di Mussolini. La minoranza di Muoviamoci nella serata di martedì 20 gennaio in Consiglio Comunale, con una lettera aperta indirezzata al sindaco e consiglier di maggioranza, ha chiesto la rimozione del post. Paladini risponde, se dà fastidio la toglierò. Comunque il senso di questa condivisione era che noi italiani siamo stanchi di subire atti di criminalità da parte di stranieri. È stato inaugurato ieri a Crema, con il taglio dello striscione, il progetto Una Casa per Noi. Il progetto Una Casa per Noi nasce dall'analisi del fabbisogno sociale e abitativo nel cremasco e sulla base del bisogno che molte donne che hanno già effettuato un percorso di accoglienza presso altre strutture hanno di passare di un servizio di semi-autonomia. Il progetto si è potuto realizzare grazie a diversi autori Il Comune di Crema, la Comunità Giulia Colbert, responsabile della gestione della struttura La Comunità Sociale Cremasca, responsabile della strutturazione e del monitoraggio del servizio Il Consorzio Orcobaleno e Consorzio Mestieri, responsabile dell'attuazione degli interventi di mediazione lavorativa A Clicrema, responsabile dell'attuazione degli interventi ed infine, ultimo ma non per importanza, la Fondazione CariPro, il finanziatore. La casa ha la capacità di accogliere 5 nuclei monoparentali per un numero massimo di 16 posti letto Un progetto importante ideato anche per la mancanza di una tale struttura nella cittadina di Crema con il risultato a di poco sorprendente A Zingonia i primi lavori nel condominio con debiti record Ai lavori eseguiti gratuitamente da alcune imprese hanno partecipato anche l'inquilini Quello che abbiamo fatto a loro è un dono e un augurio per il futuro Ora devono dimostrare di voler proseguire per la strada tracciata Sono sicuro che sono pronti a farlo Dice Maurizio Bianzi, l'amministratore chiamato dal comune di Verdellino e dagli operatori del progetto Zingonia 3.0 Primo arresto sulla nuova Brebemi Imanette, un albanese di 23 anni che era stato condannato dal Tribunale di Bergamo per aver aiutato a fuggire un connazionale accusato di una rapina per omicidio nascondendolo in un appartamento in via Cappuccini ad Antegnate Il malvivente, l'8 luglio scorso durante una rapina in casa spaccò in testa a Pietro Raccagni, macellaio di 53 anni di Pontoglio nel Bresciano una bottiglia che si verificò un gesto fatale Un operaio è stato travolto da un pezzo di gru durante le operazioni di smontaggio L'incidente si è verificato alle 9.25 di ieri mercoledì 21 gennaio nel cantiere della Tava al confine tra Treviglio e Calvenzano Dalle prime ricostruzioni pare che l'uomo, un 49enne di origine turca stesse partecipando all'operazione di smontaggio di una gru Ad un certo punto, per causa ancora in via d'accertamento sarebbe stato travolto da un pezzo dalla pesante macchina Sul posto è intervenuto il personale del 118 e dell'ASL di Treviglio Le sue condizioni sono apparse subito serie al punto da chiedere l'intervento dell'elisoccorso al bordo del quale è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Dalle prime notizie l'uomo avrebbe riportato la frattura delle gambe Le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata Parliamo invece dei boschi in Lombardia che sono in pericolo e sempre più in diminuzione Il bosco lombardo aumenta ogni 5 ore e pare la superficie di un campo da calcio È lo sforzo del nostro territorio per contrastare l'andamento opposto del pianeta dove un bosco si perde ogni minuto Ma in rapporto alla popolazione i lombardi hanno 624 metri meno della metà della media italiana Nel 2013 si è registrato un aumento di 1430 ettari più lo 0,2 rispetto al 2012 nella stima della superficie poscosa lombarda confermando la regione al terzo posto in Italia per superficie forestale Rapportata la densissima e crescente popolazione il dato cambia I lombardi tra il 2012 e il 2013 sono aumentati dall'1,8% per cui i metri quadrati pro capite di foresta a disposizione sono scesi dai 634 ai 624 Una signora va dal parrucchiere e torna con i capelli bruciati È la disavventura di una signora di Paullo che ha avuto la malaugurata idea di farsi l'acconciatura in un negozio a quanto pare non troppo professionale A trattamento eseguito si accorta che le erano state bruciate delle ciocche e perdeva dei capelli Travolto mentre attraversava la strada Vittima è un pedone di 83 anni di San Giuliano milanese investito nei pressi di piazza Alfieri da una moto Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi ricoverato solo a scopo precauzionale visto anche l'età avanzata all'Istituto Humanitas di Ruzzano L'incidente è avvenuto alle 19 di ieri mercoledì 21 gennaio e sul posto la pattuglia serale della Polizia Locale di San Giuliano e l'ambulanza della Croce Rossa di San Donato Sono stati messi in vista i dati della Polizia Locale di Lodi Più incidenti stradali e in aumento le patenti ritirate E' quanto emerge dal bilancio dell'attività della Polizia Locale di Lodi Nella mattinata del 20 gennaio durante la festa del San Sebastiano patrono dei vigili sono stati presentati tutti i numeri del comando di Lodi guidato da Angelo Di Legge Un raffronto tra il 2013 ed il 2014 dal cui risulta che gli incidenti rilevati dalla Polizia Locale sono stati 270 l'anno scorso contro i 229 del 2013 Le persone coinvolte negli incidenti sono state 641 contro le 569 del 2013 Allarmate invece il dato dei conducenti scoperti senza assicurazione dell'auto 84 i casi contro i 64 dell'anno precedente Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 20 con Evergreen Richieste condotto da Matteo Savoldi Grazie per essere stati con noi Buon proseguimento di giornata Grazie per essere stati con noi Grazie per essere stati con noi Grazie per essere stati con noi